Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella mia serie di video sulla storia della medicina. Ovviamente questi video hanno soltanto uno scopo divulgativo ed informativo. In questo video andremo a parlare, facendo una carrellata molto veloce, di quella che è la medicina cinese, la medicina dei popoli italici con decenni molto molto brevi, e poi inizieremo a parlare della medicina nel periodo del Medioevo. Vediamo subito la medicina cinese. Si stima, essendo ovviamente la Cina come civiltà, la civiltà cinese nata con l'uomo di Pechino, che ha la sua caratteristica con gli incisivi a Pala, è nata in una terra molto fertile, adatta all'agricoltura e alla domesticazione degli animali, si stima che questa civiltà sia nata intorno al 2800 a.C. Secondo la civiltà cinese la salute dipende appunto da Yang e Yin, e ovviamente introdussero varie pratiche mediche molto 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 antiche, per esempio la classica agopuntura, che viene anche oggi utilizzata, è una pratica antichissima risalente proprio alla medicina cinese. Fu un popolo grandioso, lo è tuttora la Cina, è appunto la seconda potenza economica al mondo, e infatti costruirono la cosiddetta muraglia cinese, che è un simbolo impressionante. La Cina è proprio una delle civiltà agricole più antiche del mondo, in più utilizzavano diverse erbe curative, perché conoscevano quelle che erano le piante con delle proprietà medicinali, e le piante invece che avevano delle proprietà tossiche. Tra il 420 e il 581 d.C. infatti andarono a classificare le varie piante. Nel 618 d.C. nacquero varie scuole di medicina in Cina, e migliorarono anche la fitoterapia, andando a scrivere addirittura 232 prescrizioni. Fu visto anche che andarono a descrivere anche il gozzo. Con Gengis Khan l'impero mongolico andò a conquistare la Cina, ed è in questo periodo che si stima che sia nata appunto l'agopuntura. Tra il 1800 e il 1900 tuttavia ci fu in Cina l'arrivo della medicina occidentale. E quindi chiaramente questa medicina occidentale ha preso sempre più passo in Cina, per arrivare al 1911 in cui appunto fu limitata la medicina tradizionale cinese per dare maggiore spazio alla medicina tradizionale. Tuttavia dopo la seconda guerra mondiale, sotto il dominio di Mao Zedong, le sorti di ciò si andarono appunto a invertire, che significa che questo grande dittatore cinese appunto diede sostegno nuovamente alla medicina tradizionale, andandola appunto a rivalorizzare e a riqualificare. Per quanto riguarda invece la medicina dei popoli italici, c'è appunto quella degli etruschi, che era una medicina magica, e quella anche dei romani. I romani si rifacevano molto per quanto riguarda la loro medicina sia agli etruschi che anche ai greci. Andiamo adesso invece a vedere la medicina medievale. Questa parte ovviamente della medicina medievale è un pochettino più corposa, perché ci sono degli eventi storici e medici molto importanti, a partire dalla morte nera, la cosiddetta peste nera, descritta nel Decameron del Boccaccio, nei promessi sposi del Manzoni, fu il cosiddetto periodo del 1300 del crepuscolo del Medioevo. Poi appunto nel 1400 ci fu il Rinascimento, con le varie città italiane come Genova, Venezia e anche Firenze. Ci fu in questo periodo anche la Guerra dei Centanni, lo scisma d'Oriente. Ovviamente in questo periodo medievale l'igiene da carente c'era lo sviluppo di carestie e anche di pandemie, tra cui anche per esempio varie patologie infettive come anche la lebra, il morbo di Ansel praticamente. Nel periodo del Medioevo nacque la scuola di medicina di Salerno. Non è ben chiaro chi abbia deciso come sia nata questa scuola praticamente, però si dice appunto, da quello che riportano gli storici, che è praticamente tra le più antiche scuole di medicina esistenti in Italia. Bene, io con questo video ho terminato. Se il video ti è piaciuto ti invito appunto a lasciare un mi piace, iscriverti al canale. Ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!